Marco Cassotti, guarda sulla destra, Barogno Sibilini, ancora Cassotti, costretto adesso da retrare, dietro il pallone, attenzione per Burdisso, viene attaccato, qua Zorate che gli toglie il pallone, attenzione Zorate in area di rigore, Burdisso che recupera molto bene, ancora Zorate il tiro al palo, attenzione il tiro alla parata, miracolo, miracolo, miracolo su Mauri, miracolo su Mauri, miracolo di Giulio Sergio, una parata strepitosa, mamma mia, prima Zorate ha preso il palo, poi è stata sicura Mauri, una parata strepitosa, strepitosa, questa è la parata proprio dell'anno, di Giulio Sergio, ha salvato la sua porta, angoli fuori dalla Lazio, Barogno, dalla bandiera di Vita da Nord, dalla Montemario, speriamo che questa sia una frustata per la Roma, e si svegli, parte Barogno, il suo cross in area di rigore, poi palla che viene buttata in avanti da Burdisso, ha avuto la colpa di questa azione, ha perso il pallone malamente, ancora Barogno, finisce a terra, poi Cassetti, ora Pizzarro, palla per per rotta, quindi il capitano, se da Lichtenstein ha tentato il pallo, va a Parise, per subito del contropiede, va a Parise, poi via Kitté, però lo va a chiudere, perché deve andare a recuperare ancora Arise, adesso si infiamma la partita, finalmente, finalmente, palla ancora adesso per Foggia, attenzione Brocchi, qualcuno si è perso in uno scartino, lancio lungo per Zarate, riesce ad anticipare Burdisso, ancora Zarate in possesso di palla, tocco per Lichtenstein in area di rigore, è fermato molto bene da Danilino, finalmente si infiamma la partita, e siamo giunti al sedicesimo minuto a 37 secondi, il passitto è risoluto da Minko Vucinic, palla ora per Simona Perrotta, tocco per Brighi viene fermato, Brocchi, Maroni, Mauri, ancora Zarate, perché per Bixbine è largo sulla destra, c'è la palla a Foggia, ancora Zarate, un po' dei rossi, quello Terna, poi finiscono a terra i due, vediamo il fisco da parte dell'arbitro, Passo le condizioni in favore della Lazio, c'è una trequante dell'area giallorossa, improvvisa fiammata della partita, l'unica, ma una parata strepitosa di Giulio Sergio, a botta sicura,